E' da dieci anni, da quando Pinasuriana è stata proclamata beata, che viene offerto l'olio a turno dai paesi della nostra Arcidiocese. E' il segno della preghiera, l'olio che alimenta la lampada, le vergine con la lampada accesa, che appunto sale al Signore per intercessione della Beata Pinasuriana, la cui attualità nella società partenicese è quanto mai da sottolineare importante, perché Pinasuriana è stata una donna grintosa del suo tempo, inserita nella realtà del suo tempo, dove avvertiva i problemi della città e i problemi anche della famiglia. Pinasuriana è stata una donna che è stata profeta nel suo ambiente, appunto per la realtà che ha affrontato, per i problemi della famiglia, lei andava di casa in casa, oggi si parla tanto di uscire dalle sagrestie e di evangelizzare le periferie esistenziali. Pinasuriano, con tutta la cordata di amiche che aveva, andava di casa in casa, si faceva preparare il terreno come Gesù, andata in quella famiglia che ha bisogno, e lì lei poi andava con la sua grinta spirituale, perché appartenente all'azione cattolica, per ricomporsi i dissidi all'interno della famiglia. Grazie.